Dal 7 novembre settimanalmente fate questo presidio qui davanti alla scuola di Via Bosio, per quale motivo? L'abbiamo chiamato delle merende che facciamo tutti insieme, noi genitori, maestre, alunni, sia attuali alunni che ex alunni di Via Bosio perché siamo molto affezionati alla nostra scuola e non vediamo l'ora di tornare, quindi stiamo semplicemente aspettando che tutto l'iter si concluda nei tempi più bravi possibili, siamo fiduciosi perché il Comune sta facendo tutte le tappe previste, però chiaramente siamo qui perché veramente questo posto per noi rappresenta tantissimo. Vogliamo ricordare il motivo perché da giugno è chiusa questa scuola? Sì, è chiusa perché il pavimento conteneva fibre di amianto e quindi è opportuno e per legge è necessario rimuovere il pavimento e procedere con l'installazione di una pavimentazione a norma di legge e quindi siamo in attesa della gara d'appalto che dovrebbe partire veramente a breve e di tornare a lavori finiti nella nostra scuola. Per fortuna i passi, anche se sono stati lenti, ma per fortuna ci sono stati e quindi i passi di legge burocratici e quindi siamo fiduciosi che le istituzioni porteranno a termine tutto quello che ci hanno promesso. È una scuola particolare perché è un progetto veramente speciale in cui i bambini sono continuamente a contatto con l'ambiente, hanno bisogno di uscire fuori, di ritrovare il loro giardino dove non semplicemente ci sono delle piante. Loro nel giardino osservano quotidianamente, regolarmente i cambiamenti, perché è una scuola che si basa su un metodo laboratoriale in cui loro osservano i cambiamenti della natura intorno a loro, sperimentano continuamente tutto quello che poi apprendono con la didattica.